Una strepitosa ital service davanti ad un palamega a box in festa si guadagna gara 3 dei quarti di finale Scudetto. Dopo la netta sconfitta Roma per 6 a 1, a Pesaro la squadra di Scarpitti si prende un'esaltante rivincita battendo 5 a 3 i capitolini dopo tempi supplementari. Ora si andrà allo spareggio di gara 3 fissato per venerdì 17 maggio alle 19 al palaolgiata di Roma. Pesaro ci arriva dopo essersi cucita addosso un lunedì da grandissima squadra fin dall'approccio ruggente premiato dal vantaggio fornito da un autorete di cutrupi dopo 5 minuti. 1 a 0 al primo tempo e Olympus che si rifà sotto nella ripresa pareggiando con Tres. Pesaro però c'è e si riporta avanti con Murillo Schiochet ma l'ex Marcelinho pareggia su rigore portando 2 a 2 la sfida e trascinandola ai supplementari. All'Overtime però l'Ital Service dà il meglio di sé ed è flagra con tre reti di Vavà, Caruso e Schiochet che valgono il 5 a 2 prima del 5 a 3 definitivo di cutrupi. Sicuramente oggi è da fare complimenti ai ragazzi e alla squadra perché sono stati strepitosi. Abbiamo giocato al massimo delle nostre possibilità in un palasporto fantastico pieno di gente che ci ha sostenuto e abbiamo dimostrato di essere vividi, non essere la squadra che si era vista a Roma, di essere una squadra che vuole dire la sua in questi playoff. Sono contentissimo e c'è poco a dire. Un abbraccio a tutti i tifosi, soprattutto ai nostri under che sono stati a darci la spinta tutta la partita e ragazzi strepitosi.